Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Questo è un video tag riguardante i libri. Mi è piaciuto molto questo tag, io l'ho visto sul canale di una ragazza che sto seguendo da poco tempo, ma che comunque propone sempre degli argomenti molto interessanti. Il canale è LadyMijia83 e se non ho capito male è stata proprio lei a ideare questo tag. Aveva risposto anni fa, adesso lo ha riproposto e a me faceva piacere rispondere perché sono domande molto interessanti e è un tag che veramente mi è piaciuto tanto perché comunque parla di libri e nel mio canale c'è una sezione che è dedicata anche ai libri. Quindi partiamo subito con il tag. Userò il tablet perché questa volta non ho avuto il tempo di ricopiare le domande su un foglio perché a me piace scrivere a mano, quindi io di solito mi copio tutto a mano, però questa volta avevo i tempi un pochino più ristretti quindi userò il tablet che è scritto piccolo, quindi spero di vedere bene. Allora la prima domanda è come scegli i libri da leggere? Ti fa influenzare dalle recensioni? Allora io sì, nel senso che non sempre, però molto spesso anche quando vedo un libro che mi interessa, che mi attira sia come titolo che come trama di solito prima di acquistarlo do un'occhiata alla recensione, quindi in qualche modo sì, mi faccio influenzare. Non sempre però perché è già capitato comunque che io abbia acquistato dei libri anche senza sapere assolutamente nulla della trama e nulla della recensione però diciamo che mediamente cerco di dare un'occhiata prima alla recensione. Seconda domanda, dove compri i libri? In libreria, scusatemi, o online? Tutte e due, io compro i libri sia online che in libreria. Di solito poi succede molto spesso che il libro che interessa a me magari in libreria non lo hanno disponibile e quindi poi lo acquisto online, però non tanto perché sia una preferenza, ma perché a volte appunto non avendolo a disposizione per non doverlo ordinare, aspettare e ritornare dieci volte in libreria, allora li acquisto online. Però non ho una preferenza, mi vanno benissimo tutte e due le soluzioni, diciamo. Terza domanda, aspetti di finire la lettura di un libro prima di acquistarne un altro oppure hai una scorta? Io ho una scorta veramente esagerata di libri, ho un sacco di libri in casa, tantissimi ancora da leggere, tantissimi che magari sono lì e tutte le volte dico adesso questo lo devo cominciare, poi magari me ne arriva un altro, quindi quello rimane ancora lì e leggo quest'altro libro, insomma ho una scorta veramente infinita di libri, quindi non mi capita di dire non so cosa leggere perché non ho libri, assolutamente, ne ho persino troppi per la dimensione della mia casa. Di solito quando leggi, io di solito leggo prima di andare a dormire alla sera, leggo di solito durante l'estate, la domenica quando andiamo in casa dei miei suoceri che è una casa di campagna, quindi mi metto in giardino, mi prendo la sdraio, mi metto all'ombra e mi leggo il mio libro, ed è un momento veramente fantastico e rilassante, leggo un pochino in spiaggia solitamente e diciamo che basta, più o meno sono questi i momenti in cui io leggo un libro. È difficilissimo che io legga di giorno, che io legga magari nella sala d'attesa di un ufficio piuttosto che di un ambulatorio, perché tendo a distrarmi abbastanza facilmente, quindi quando leggo in mezzo alla gente, poi alla fine non sto davvero leggendo, perché poi mi ritrovo a non aver capito quello che ho letto, quindi comunque di solito leggo se c'è il silenzio giusto, se non mi devo distrarre troppo. In spiaggia ci riesco abbastanza bene, tutto sommato, perché ci mettiamo magari in un angolo della spiaggia, dove non ci siano magari troppi bambini che giocano, che fanno rumore, quindi insomma poter stare tranquilli senza essere disturbati e distratti. Poi, ti fai influenzare dal numero delle pagine quando compri un libro? Prima lo facevo, prima quando un libro era troppo alto mi spaventavo un po' perché dicevo oddio se poi non mi piace mi ritrovo questo mattone da leggere, come faccio? Invece adesso no, adesso devo dire che mi faccio influenzare molto di più dalla trama, dalle recensioni, ma dal numero di pagine non tanto. Quello che magari vado a vedere, se le pagine sono tante, quindi è un librone alto, se è scritto piccolo o se è scritto grosso, perché se è scritto troppo piccolo io già ci vedo poco, quindi se è troppo piccolo faccio molta fatica, quindi magari in quel caso, a meno che non sia un libro che proprio mi interessa tantissimo, forse ne scelgo un altro. Ma se è scritto abbastanza grosso, nel senso che comunque ha una, diciamo una dimensione media, il carattere ha una dimensione media, allora va bene lo compro e non mi faccio influenzare troppo. Poi, altra domanda, genere preferito? Il mio genere preferito senza dubbio i thriller, i libri gialli, questi sono i miei due generi preferiti, però devo dire anche che non, cioè, alla fine, se una trama mi attira, non mi faccio influenzare dal genere, perché può essere anche un genere completamente diverso, ma magari mi attira, e quindi, però, se devo scegliere il genere preferito, sicuramente thriller e giallo. Poi, quando... scusate, ho perso il filo. Quando è iniziata la tua passione per la lettura? Molto, molto tardi. Io ero una persona a cui veramente non piaceva leggere. Da piccola io non volevo mai leggere niente, non ne avevo voglia, non... Io credo da piccola di non aver mai letto niente. Piccola intendo tipo l'età delle elementari, delle medie, così, io non leggevo. Non leggevo perché non mi piaceva, mi annoiava, non c'erano mai delle trame che in qualche modo io potessi trovare vincenti. E poi lo vivevo un po' come un obbligo, perché mi sembrava quasi un compito per la scuola. Quindi io, a quell'età lì, assolutamente. Ho cominciato a leggere intorno ai 14-15 anni, quindi direi l'inizio delle superiori, e il primo libro che avevo letto, io lo ricordo ancora e dico, caspita, come primo libro, però c'era andato giù pesante, avevo letto Cumuli, che è il libro di un ragazzo. Poi vi faccio la recensione di questo libro. Comunque il libro è di un ragazzo che aveva una storia di tossicodipendenza e raccontava proprio la sua storia, quindi come aveva iniziato a drogarsi, poi il programma di recupero in comunità, insomma, tutto il suo percorso di disintossicazione. È un libro molto forte e io l'avevo letto, effettivamente, intorno ai 15 anni, così. Quindi come primo libro, diciamo che ero proprio, avevo scelto proprio una cosa leggera, leggera, diciamo. Quindi, però, è un libro che mi era piaciuto molto, quindi da quel libro lì ho cominciato poi a leggere. E quindi è stato un po', diciamo, il trampolino di lancio. Ok, hai un autore preferito? Sì, voi lo sapete se avete visto i miei video precedenti, Wolf Dorn è il mio autore preferito, del momento, però, perché io vado anche a momenti, quindi in questo momento è lui, poi magari fra 6 o 7 mesi sarà un altro, questo non lo so. In questo momento sicuramente è lui. Comunque tutti gli autori che trattano genere thriller, genere giallo, io, vediamente, li ho provati, quindi, però diciamo che adesso è lui, sicuramente. Presti libri? Allora, sì, diciamo che mi è capitato di prestare dei libri. Devo dire che i libri dell'università, quando frequentavo l'università, che ho prestato non mi sono mai ritornati indietro. Sono riuscita ad averne uno, a farmene tornare indietro uno, con molta fatica sono quasi dovuta andarlo a prendere a casa di questa persona, perché si vede che, boh, in qualche modo non voleva ridarmelo, non lo so. Comunque quello l'ho recuperato, tutti gli altri che ho prestato non li ho mai più visti tornare indietro ed è veramente difficilissimo riaverli. Però devo dire anche che ormai non me ne frega più niente, perché l'università comunque l'ho finita. È comunque un campo nel quale io non lavoro più, quindi tutto sommato pazienza. Tanto in casa mia poi non ci stanno, quindi glieli lascio. Però diciamo che i libri, invece, quelli che leggo, quindi romanzi o libri comunque a cui tengo, li presto solo a persone fidate. Quindi se so che poi me li restituiscono, che mi tornano, non dico in ottimo stato perfetto, lindo e pulito, però almeno ben tenuti, comunque che si vede che non li hanno maltrattati, che hanno avuto un minimo di cura del mio libro, diciamo che li presto senza problemi. Sicuramente la persona a cui presto più volentieri i libri è mia suocera, perché so che lei li tiene bene, me li restituisce come io glielo dati, non li maltratta, quindi preferisco, diciamo, prestarli a lei perché so che vanno in buone mani. Gli altri dipende, dipende un po' chi è. Devo dire che finora non è che tutte queste persone mi abbiano chiesto libri in prestito, però insomma, una minima selezione io la faccio. Poi andiamo avanti ragazzi, se no viene lunghissimo. Leggi un libro alla volta oppure riesci a leggerne diversi insieme? Io solitamente leggo un libro alla volta, perché comunque preferisco concentrarmi completamente su quella storia, entrare proprio completamente in quella storia. Leggi un libro alla volta oppure riesci a leggerne diversi insieme? No, io di solito leggo un libro alla volta, non tanto perché io non riesca a leggere più libri insieme, ma perché leggendone uno alla volta riesco ad entrare completamente in quella storia, riesco comunque a dedicarmi bene ai personaggi, a capire meglio magari la psicologia del personaggio. Insomma, mi piace di più dedicarmi a una storia per volta, però, oddio, se dovesse proprio capitare non è che non ci riesco. Diciamo che è una scelta, preferisco leggerne uno per volta. Poi, i tuoi amici familiari leggono? Sì, diciamo che qualcuno sì e qualcuno no. Poi, allora, quanto ci metti mediamente a leggere un libro? Dipende dal libro, ovviamente. Se è un libro che mi prende, ci metto poco, anche una settimana, dieci giorni. Se invece è un libro che in qualche modo non mi ha preso, che è pesante, lungo, me lo trascino anche mesi. A me è già successo di trascinarmi dei libri per mesi perché magari non mi piacevano e poi magari li ho anche lasciati a metà alla fine perché proprio non riuscivo a leggerli. Però, diciamo che, insomma, più o meno la mia media può essere intorno alle due, tre settimane, più che altro perché non ho proprio tantissimo tempo da dedicare alla lettura. Avessi più tempo da dedicare alla lettura, probabilmente ci metterei anche meno. Poi, andiamo avanti con l'altra domanda. Quando vedi una persona che legge, ad esempio sui mezzi pubblici, ti metti immediatamente a sbirciare il titolo del suo libro? Allora, io, ragazzi, mezzi pubblici non ne prendo mai perché io vado sempre in giro, a piedi o in macchina, quindi è molto difficile che io sia su un mezzo pubblico. Però, diciamo così, che quando sono in un luogo pubblico affollato, magari nella sala d'attesa di un ufficio piuttosto che di uno studio medico, non lo so, e sono in mezzo ad altre persone e c'è qualcuno che legge, io effettivamente mi accorgo che sbircio un po' la copertina. Poi non riesco mai a scoprire qual è il titolo, perché ci fosse stata una volta che sono riuscita a leggere il titolo del libro, quindi, però ci provo. Devo dire, l'ultima volta mi era successo in aeroporto, stavamo aspettando l'aereo che era in ritardo, io mi sono seduta vicino a un ragazzo che stava leggendo, ho provato in tutti i modi a sbirciare il titolo, ma non ci sono riuscita. Ero quasi tentata di chiedergli scusami che libro stai leggendo, perché stavo facendo veramente fatica per cercare di scoprire il titolo senza riuscirci. Comunque sì, effettivamente sì, mi faccio un po' prendere dalla curiosità di vedere che cosa leggono gli altri, che cosa leggono le persone, insomma è una curiosità. Poi, quando vedi una persona, scusate questa l'ho già letta, ragazzi ve l'ho detto, col tablet io faccio fatica, per questo che me le scrivo a mano le domande. Allora, se tutti i libri del mondo dovessero essere distrutti e potessi salvarne uno soltanto, quale sarebbe? Questa è una domanda difficilissima. Io credo però, che se tutti i libri venissero distrutti e io dovessi salvarne uno solo, credo che sarebbe un libro di fiabe, perché intanto un libro di fiabe comprende storie diverse, quindi ognuno magari leggendolo ha la possibilità di trovare all'interno del libro una storia che in qualche modo lo possa colpire, che in qualche modo possa sentire vicino a sé. E poi perché se tutti i libri del mondo andassero distrutti sarebbe veramente una cosa tristissima, quindi salvando un libro di fiabe mi verrebbe un po' da pensare che sto salvando in qualche modo l'immaginazione, la capacità di essere creativi, la capacità di avere fantasia, quindi è questo il motivo per cui salverei un libro di fiabe. Poi, Perché ti piace leggere? Mi piace leggere perché nel momento in cui leggo riesco a entrare in una storia che non è la mia storia e quindi in qualche modo è un po' come se avessi l'occasione di vivere una vita diversa, anche se poi non è la mia, perché io difficilmente mi immedesimo nel personaggio, mi è capitato pochissime volte, però in qualche modo davvero mentre leggo ho la possibilità di entrare davvero in una storia diversa dalla mia e quindi anche attraverso questa storia magari trovare degli spunti di riflessione per quella che è la mia storia, perché a me capita tante volte leggendo di fare delle riflessioni anche su di me, perché magari pur non immedesimandomi nel personaggio ci sono delle storie, dei dialoghi oppure qualche cosa che accade nella storia del libro che magari mi richiama alla memoria un'esperienza che può essere simile a un'esperienza che ho vissuto io e quindi spesso mi capita di riflettere, di finire il libro e dire caspita ho riflettuto anche su di me leggendo questo libro, magari è semplicemente una frase, una parola, non è detto che sia tutta la storia e tutto il libro, però sì, mi piace principalmente per quello, perché entrando nella storia di un'altra persona riesco a riflettere poi su di me, non lo so, è un lavoro un po' psicologico forse, boh, forse non sarò normale ragazzi, non lo so, andiamo avanti e non facciamoci queste domande. Leggi libri in prestito da amici e dalla biblioteca o solo libri che possiedi? generalmente io leggo libri che possiedo, però mi piace anche tantissimo andare in biblioteca e ho preso parecchi libri in prestito nel corso degli anni, non erano romanzi in realtà perché in biblioteca poi andavo a prendere più che altro libri che mi servivano magari per studiare o comunque per informarmi su determinate cose, però devo dire che colgo l'occasione con questa domanda per dirvi che ho intenzione da qui in avanti di provare a prendere dei libri in prestito in biblioteca di genere appunto romanzo, romanzi eccetera, perché io non so, siccome la biblioteca da un tempo, cioè comunque il tempo del prestito nella mia città arriva fino a un mese, quindi ho un mese di tempo per leggere il libro e volevo un po' capire se il fatto di avere una scadenza mi mette agitazione perché oddio devo finire il libro che poi lo devo restituire oppure se è una cosa che posso fare tranquillamente perché se io riesco a prendere i libri in prestito in biblioteca e a leggere in quel modo ho risolto il problema dello spazio in casa perché comunque io, a parte qualche libro a cui tengo molto non è necessario comunque che io possegga per forza il libro per leggerlo, posso anche semplicemente leggerlo e poi restituirlo, se poi è proprio così meraviglioso me lo posso sempre comprare però almeno in questo modo potrei leggere tanto senza pormi il problema dello spazio perché ho veramente pochissimo spazio in casa, quindi questo è un grosso problema Qual è il libro che non sei mai riuscito a finire? Io non sono mai riuscita a finire via col vento Il film mi è piaciuto da morire, è il mio film preferito, penso veramente di saperlo a memoria l'ho visto un sacco di volte, lo rivedrei altre mille volte perché è un film che veramente mi piace tantissimo ma quando ho provato a leggere il libro mi sono accorta che mi stavo annoiando quindi non sono mai riuscita a leggere quel libro, ci ho provato tante volte nel corso degli anni magari ogni volta arrivo sempre un po' più avanti ma poi puntualmente lo lascio a metà e non lo finisco quindi quello è un libro che stranamente, perché il film davvero mi piace tanto, non riesco a leggere ed è strano, molto strano Hai mai comprato un libro solo perché aveva una bella copertina? Che cosa ti attrae della copertina di un libro? Di solito no, io non compro un libro basandomi sulla copertina perché anche quando la copertina è bella, dei colori, delle belle figure magari è una copertina suggestiva che in qualche modo richiama l'attenzione io poi comunque vado sempre a vedere la trama e se la trama non mi attira può essere la copertina più bella del mondo ma che comunque il libro rimane dov'è perché non mi faccio influenzare per niente dalla copertina la copertina diciamo che mi può influenzare un pochino se mi attira perché mi avvicina al libro fa in modo che io legga la trama ma se poi la trama non mi piace, non c'è niente da fare, non lo compro c'è una casa editrice che ami particolarmente e perché? non c'è una casa editrice che io amo particolarmente in realtà quindi a questa domanda non saprei rispondere diciamo che io ho comprato libri di tante case editrici diverse e insomma non ne ho una preferita quindi no, credi no porti libri dappertutto ad esempio in spiaggia o sui mezzi pubblici o li tieni al sicuro dentro casa? no, io i libri solitamente me li porto dietro perché come dicevo prima leggo magari nella casa di campagna dei miei suoceri in spiaggia, in vacanza quindi sì, assolutamente me li porto dietro l'unica cosa che guardo diciamo per decidere se portarmi dietro quel libro oppure no è quanto è grosso perché se è una mole gigantesca un libro pesantissimo magari non me lo porto in spiaggia perché mi pesa quindi magari in quel caso no però solitamente sì li porto fuori senza nessun problema se poi succedesse qualcosa al limite me lo ricompro non succede niente se è un libro fuori commercio proprio assolutamente introvabile magari lo tengo un pochino più con cura lo tengo in casa un pochino meglio però libri fuori commercio io ne ho giusto due o tre quindi comunque gli altri li porto fuori casa qual è il libro che ti hanno regalato che hai gradito maggiormente? io ho gradito molto il codice da Vinci di Dan Brown non tanto per la trama o meglio sì è un bel libro è carino per carità un thriller insomma abbastanza vincente ma non è questo il motivo per cui l'ho gradito l'ho gradito perché mi è stato regalato in un momento della mia vita che era abbastanza difficile e turbolento e diciamo che quel libro portava un messaggio per me per la mia vita di quel momento quindi comunque diciamo che mi è arrivato in un momento al momento giusto mettiamola così quindi l'ho gradito per questo motivo non tanto per il libro in sé ma proprio per il momento in cui mi è arrivato mi è stato regalato dal mio compagno quindi comunque c'è dietro un po' tutta una storia che sarebbe troppo lungo spiegarvi adesso però è quello il libro come scegli un libro da regalare? allora un libro da regalare io lo scelgo in base un po' alla trama e alla persona nel senso che se so che a quella persona magari piacciono tantissimo i libri gialli piuttosto che i romanzi storici piuttosto che i libri autobiografici ovviamente vado a scegliere un libro che tratti di quel tipo di argomento però c'è da dire che io non regalo libri a nessuno se non al mio compagno io al mio compagno regalo molto spesso dei libri perché so quali sono i libri che vuole leggere che vuole in quel momento so qual è il suo genere preferito e quindi vado abbastanza sul sicuro però gli altri cioè io non so poi se un libro ce l'hanno già se l'hanno già letto quindi è molto difficile che io regali un libro a meno che non mi venga proprio richiesto espressamente la tua libreria è ordinata secondo un criterio ottieni libri in ordine sparso la mia libreria è un totale casino ragazzi perché io ho pochissimo spazio quindi i libri sono messi in tutti i modi basta farceli stare poi quando leggi un libro che ha delle note le leggi o le salti ce le leggo perché magari mi aiutano a capire meglio quello che sto leggendo i contenuti di quello che sto leggendo ultima domanda legge eventuali introduzioni prefazioni postfazioni dei libri o le salti io di solito le leggo perché comunque mi fa piacere anche capire un po' come è nata l'idea del libro qualcosa sullo scrittore insomma bene ragazzi questa era l'ultima domanda io spero di aver risposto a tutte le domande più che altro perché con il tablet che era scritto piccolo piccolo e non sono riuscita a ingrandire lo schermo forse ho fatto un po' di pasticcio però insomma la mia vista è un po' così è così quindi spero che mi vogliate scusare di questo vi mando un bacio vi do appuntamento al prossimo video un abbraccio a tutti e buona serata